Dostoevsky Dostoevsky, 1821-1881 Scrittore e filosofo russo In I fratelli Karamazov dice Fratelli, non temete il peccato degli uomini, amate l'uomo anche nel suo peccato, perché un tale amore si avvicina a quello di Dio. Amate ogni creatura divina e tutto l'universo. Ogni granello di sabbia, ogni fogliolina, ogni raggio divino, amate ogni cosa. Se amerete ogni cosa, potrete capire il mistero divino di tutte le cose. Commento Si ama gli altri come fratelli quando si è superata la mente, che è l'io, che è la personalità, quando si è compreso che il peccato e i fratelli sono la stessa cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.